A questo punto hanno detto Salvini deve rompere perché così capitalizza, ma se avesse rotto sarebbe successo esattamente quello che è accaduto. Poi gli hanno dato dell'idiota, del cretino, perché dicevano che ha rotto e si è fatto fregare da quegli altri. Ma l'avrebbero fregato se l'avesse rotto il 27 di maggio, il 27 di giugno o il 27 di luglio. Ha rotto ad agosto. Perché ha rotto ad agosto? Perché ha sperato, sapendo che ovviamente nessun cappone salta volentieri nella pentola per essere cucinato e quindi né i 5 Stelle né gli altri sarebbero saltati nella pentola per essere cucinati andando alle elezioni per prendere una batosta. Quindi lo ha fatto ad agosto sperando che non avessero il tempo di organizzarsi, cioè che fosse talmente veloce l'operazione di poterlo. E' andata male, ha sbagliato i conti, non ha previsto tutto, vedremo quello che succederà. Se questo governo poi alla fine premierà, come pensavano loro, i 5 Stelle e il PD o premierà la Lega.